In archivio il pareggio contro il Pisa, la rincorsa del Bari riprenderà dal San Nicola. La squadra di Mignani, per la sesta giornata del campionato di Serie B, affronterà il Catanzaro. Un avvio sorprendente per la squadra dell'ex Vivarini, che Danio Promossa, in questo avvio di stagione, ha raccolto 10 punti. Lo 0-5 del Ceravolo contro il Parma, però, ha un po' ridimensionato le ambizioni della compagine calabrese. Portare a casa l'intero bottino, dunque, deve essere l'obiettivo principale. Mister Mignani, intanto, avrà un Gennaro a Campora in più. Il centrocampista ex Benevento ha già esordito a Pisa ed è pronto a prendersi uno slot nella mediana bianco-rossa. È stata una lunga trattativa perché la mia società non voleva lasciarmi partire, quindi c'è stato un po' di incomprensioni fino alla fine. E poi, agli ultimi minuti, è arrivata questa chiamata importante che non ho potuto rifiutare. Sicuramente è un campionato difficile. La B è quello, ma è tutti gli anni che è difficile. Mentre Catanzaro, sicuramente è una squadra che gioca da un po' di anni con questo sistema. E quindi è una squadra che ha un buon palleggio, ci darà sicuramente del filo da torcere, ma noi dovremmo essere bravi a imporre il nostro gioco. Non dovremmo abbassarci troppo e lasciare a loro il pallino del gioco. Dovremmo cercare di imporre il nostro gioco e i nostri ritmi in modo da fargli male.